Due comunicazioni importanti oggi, intanto il riamodernamento dei treni ad alta frequentazione ma anche i 45 nuovi treni che saranno immessi nel 2024. Sì, un buon obiettivo che continua nell'operazione che Regione Lombardia ormai sta portando avanti da qualche anno. Continuiamo con questi 34, come giustamente è stato detto, che sono stati rimessi a nuovo allungandogli la vita per almeno altri 10 anni, treni totalmente nuovi e poi quei 45 che vanno a inserirsi nel 2024 che andranno a completare la consegna dei 214 già messi in moto da Regione Lombardia fino al 2025. E in previsione anche delle Olimpiadi inseriremo altri 40 treni nuovi anche sulla tratta relativa al percorso delle Olimpiadi. Il lavoro anche sul tema della sicurezza? Ma è un lavoro importante, sulla sicurezza ho sempre puntato perché si possano avere anche le forze dell'ordine abbiamo rinnovato da poco il protocollo d'intesa con le forze dell'ordine e le forze armate ma oggi diamo anche per quei treni vecchi che non erano dotati di servizi di videosorveglianza, antincendio anche questo servizio che è un servizio in più che tutela il cittadino ed ha una forma di deterrenza importante per l'utenza.